Pasquale Di Lullo, centrocampista del Vasto Girardi Seconda in casa per voi Su un campo che tra l'altro conosci molto bene Arrivata una signora squadra, il Pineto Può essere una novità come parlavamo con mister Farina Che non avete segnato Insomma una squadra come voi Abituata a creare e a fare gol Sì, la seconda partita in casa Abbiamo giocato secondo me contro una Telemgiori squadre del campionato Secondo me si giocherà il campionato per la vittoria finale Giocavano bene, giocavano bene al calcio L'avete visto tutti Però noi secondo me abbiamo fatto una buona partita Abbiamo corso, abbiamo messo in difficoltà gli avversari Abbiamo creato qualcosa Alla fine abbiamo colpito tre legni Magari con un pizzico di fortuna Poteva andare meglio Però alla fine prendi un punto E sai che hai giocato contro una squadra forte Sei consapevole che te la sei giocata a viso aperto Puoi dare ancora di più e possiamo fare ancora meglio Appena sei entrato ti abbiamo visto protestare Forse quel braccio largo Da parte del primo minuto Era in aria sicura da vedere Perché poi il nuovo regolamento ha un metro abbastanza giurisprudenziale Sì per il nuovo regolamento Basta che la prendi in mano è rigore Però sinceramente ho protestato Perché ho visto i miei compagni protestare Ho protestato anch'io Sono leale Dico la verità Non è che abbia visto perfettamente la situazione Quindi non so che dire Se era rigore o meno Ecco per voi conta molto il campionato Lo si è visto perché Insomma una preparazione abbastanza positiva Ma mercoledì non si può non pensare A questa serata di Gran Galà contro il Foggia Il mister Farina ha detto che schiererà le seconde linee Quindi si è dichiarato Ma c'è tutta la buona volontà di fare bella figura In uno stadio così di prestigio E poi per una realtà così piccola Ma io penso che in un gruppo così bello come il nostro Il fatto di giocatori veramente tutti e ventivati Non esistono prime linee e seconda linea Quindi il mister ha detto seconda linea Giusto per ma alla fine è consapevole di avere un grande gruppo Quindi lui sa la nostra forza Come noi sappiamo la forza sua di seguirlo ogni giorno Per cercare di raggiungere questo obiettivo Sì mercoledì è una prova A chi è che non piace giocare a Foggia Davanti a tutti quei spettatori C'è un'emozione unica Perché comunque alla fine a pensarci Vasto Girardi Foggia tanti anni fa Non si poteva nemmeno immaginare alla Playstation Però è diventata realtà Andremo lì e faremo anche la nostra bella figura Perché al di là della Coppa Noi vogliamo fare sempre bene Vogliamo provare a vincere sempre Perché vincere aiuta a vincere E vincere aiuta a stare bene Nicolo Luglio Un altro giovane portiere per questo Vasto Girardi Un classe 2000 Debutto in Serie D Perché avevi giocato in Coppa Cassino Quarto risultato utile consecutivo Avete affrontato una squadra più o meno come voi in salute Insomma un po' più attrezzata forse a livello di valori tecnici Però fino a un certo punto Sì sì Oggi abbiamo affrontato una squadra molto importante come il Pineto Attrezzata di giocatori molto importanti Non abbiamo preparato la partita durante la settimana In maniera molto buona E siamo riusciti a portare a casa un punto fondamentale per la classifica Ecco un primo tempo Forse meno simpatico sotto il punto di vista delle occasioni Nella ripresa soprattutto nella parte finale I reparti si sono un po' allungati Poteva vincerla chiunque Sì 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 Al primo tempo abbiamo sofferto un po' Siamo riusciti anche a ribaltare un po' la situazione Creando delle occasioni da gol Siamo stati un po' sfortunati Però va bene così Ecco anche a te Non si può non pensare a mercoledì Perché specialmente per un ragazzo come te Entrare in uno stadio come quello del Foggia Anche se si può non pensare a questa Coppa Ma può essere insomma un colpo d'occhio notevole Sì sì sicuramente Giocare a Foggia sarà un'emozione unica Perché poche volte nella vita ti capitano di giocare in questi stadi così importanti Come Serie B, Serie A Noi daremo il massimo lì a Foggia Cercheremo di superare questo turno di Coppa E speriamo bene Sogno una mella da titolare Ovviamente Adesso vedremo qua in questi due giorni Anzi un giorno d'allenamento Vedremo cosa deciderà il mister Grazie a tutti